Una parata con i colori arcobaleno contro i pregiudizi e per il riconoscimento dei diritti civili. Così il comitato promotore della Toscana Pride presenta l'evento di sabato prossimo ad Arezzo. È la seconda volta per la Toscana dopo Firenze, la seconda volta che la manifestazione si svolge con il patrocinio della regione toscana che sarà presente con il gonfalone e la vicepresidente Barni. In città si riverseranno migliaia di persone. L'evento la mattina sarà preceduto da un incontro riservato tra il sindaco Ghinelli e le famiglie arcobaleno. È cominciato il conto alla rovescia, anzi siamo agli sgorcioli perché sabato 27 maggio la grande parata del Toscana Pride 2017 arriva ad Arezzo e l'orgoglio incontenibile che è lo slogan del manifesto di quest'anno è diventato davvero contagioso perché la società civile sta rispondendo in massa come ci aspettavamo e quindi quella non sarà soltanto la manifestazione dell'orgoglio LGBT ma sarà appunto la manifestazione di tutta la cittadinanza che crede nell'uguaglianza e che quindi scenderà in piazza con noi chiedendo che questi temi tornino nell'agenda politica. Le 15 il concentramento è al Prato quindi nel parco su accanto Piazza della Libertà e verso le 4 al massimo la parata prenderà la discesa verso Corso Italia e attraverseremo tutto il centro storico. Ci saranno bandiere, striscioni, carri, ci sarà la musica, le band, tutto quello che è tipico del Pride e soprattutto ci saranno i nostri slogan, le nostre rivendicazioni. Arriveremo nel tardo pomeriggio a Piazza Sant'Agostino dove sarà allestito un palco e da lì appunto gli interventi degli organizzatori e poi di alcuni ospiti.